namaste ciao a tutti buongiorno e benvenuti alla quinta puntata della vescedaria degli asana allora oggi più che un asana analizzeremo una progressione che noi facciamo dentro delle prime prime primissime posizione che affrontiamo come inarcamenti non è un arcamento di per sé però è il primo diciamo inarcamento che iniziamo ad affrontare quando facciamo yoga stiamo parlando del cane a testa in su urbamukhasvanasana allora questa sana non è per tutti non perché sia super esclusiva ma perché per arrivare a farla si richiede una progressione graduale della flessibilità delle nostre spalle ok quindi per evitare di farci del male per evitare di forzare troppo una posizione questa sana può essere presa sia già da un movimento di sfinge che da un cobra e spesso e volentieri si confondono sia il cobra che il cane a testa in su e si fa un ibrido ok questo ibrido presso in maniera sbagliata può occasionare problemi alla colonna vertebrale quindi ecco perché vorrei analizzarla con voi in maniera che quando fate la vostra pratica oppure fate un saluto al sole prendiate l'asana che per voi va bene in quel momento cioè comunque e come sapete tutti i giorni siamo diversi quindi magari che ne so siete abituati a prendere al cane a testa in su e va bene poi un giorno vi svegliate con i polsi stanchi con le spalle un po più chiuse del solito e dovreste o vorreste prendere un'altra sana quindi prendete il cobra oppure prendete addirittura lo sfide la sfinge ok quindi per farvi vedere meglio meglio mi tolgo il malione e analizziamo la progressione di queste tre asana che sono tre asana e a volte le prendiamo come se fosse una completa allora questo me l'ha fatto il mio gatto oggi e senza volere ovviamente però quindi prima prima di tutto ricordatevi che per chi sta guardando questa questo appuntamento per la prima volta che questo una spiegazione degli asana e quindi importante che quando o prima meglio prima di affrontare le posizioni voi siate caldi quindi avviate riscaldato un po tranne quando parleremo o se stiamo parlando di una sana che si può prendere molto morbidamente come addirittura e nello yoga che in questo caso invece prendiamola proprio con i polsi che si riscaldano molto bene da una parte dall'altra le spalle che si sciolgono perché se no vado a creare carico peso stress a una parte del corpo che ancora non è pronta bueno allora partiamo alla posizione della sfinge la posizione della sfinge comprende i gomiti sotto le nostre spalle ok le spalle lontane delle orecchie le gambe sono insieme attivo l'addome come se volessimo staccare l'ombelico da terra guardiamo in avanti mani aperte con le dita delle mani che sono allineate ai gomiti che a sua volta sono allineate alle spalle punto non c'è da guardare nessuno non c'è da forzare con il mento in avanti c'è da permetterle al nostro collo di seguire la linea della colonna ok dopo di che quando questa posizione diventa comoda quindi non la forza da dalla schiena ma l'addome forte le spalle sono aperte passiamo al cobra il cobra le mani sotto le spalle i gomiti che non vanno all'esterno ma vanno chiusi le spalle indietro gambe sempre insieme attivo fortemente distenda leggermente le mie braccia quindi i gomiti sono comunque un po piegati pove a terra e respiro niente di guardare indietro se non abbiamo una se il nostro collo non sta seguendo la linea della colonna e poi si scende che cosa succede qui fra questa posizione e il cane a testa in su che a volte noi facciamo che lasciando le mani sotto le spalle distendiamo completamente i gomiti questo è un errore per dire perché se non abbiamo la flessibilità per farlo succede questo incastriamo le spalle sentiamo immediatamente che i piedi non ci tengono ok si divaricano le gambe si portano all'interno e soprattutto che carichiamo la zona della colonna vertebrale quindi non va bene ok la differenza di cocco la differenza fra il cobra che questo qui con i gomiti che sono comunque ancora un po piegati e il cane a testa in su e che nel cane a testa in su se stacca completamente tutto il corpo da terra e nel pavimento rimangono i piedi e le mani ok quindi e spalle indietro i gomiti chiusi distendo le braccia ma stacco se vedete io ok questo esagerato però io stacco e le mani man mano noi facciamo la sana possiamo portarla sempre più indietro finché arrivano a stare sotto le nostre anche spalle lontane delle orecchie braccia dritta inspiriamo ed espiriamo allora quindi come vedete una progressione graduale ogni volta si richiede un po di più di forza alle nostri alle nostre braccia e un po di più apertura le nostre spalle se ci manca questa apertura se ci manca questa flessibilità andremo a come ho già detto sempre a causare tensione alle articolazioni perché il muscolo non è pronto perché l'apertura non è ancora lì ok da questa sana possono derivare tantissime altre aperture che man mano si fanno possiamo aiutarci proprio magari ad avvicinarci al muro con il petto sul muro le gambe indietro però senza forzare la zona lombare come sapete noi abbiamo nella nostra colonna abbiamo già una zona lombare che ha questa curvatura e quello che noi facciamo quando facciamo gli inarcamenti quello che cerchiamo di fare scusami e aprire la parte alta della schiena non forzandola aspettando portando il petto fuori ma proprio creando l'allungamento e l'apertura come se le nostre vertebre si allontanassero l'una dall'altra creando questa apertura attivando sempre bene l'addome per proteggere addirittura come dicevo la nostra schiena quindi più noi lavoriamo sugli inarcamenti più allunghiamo la colonna la colonna per gli inarcamenti si allunga con le torsioni si allunga proprio allenando questo tipo di asana più spazio si crea per entrare meglio in queste posizioni e spesso e volentieri noi forse amo il corpo sin dall'inizio entrare nel cane a testa in su perché l'insegnante lo chiama e noi lo facciamo perché ci sembra più carino più figo perché non lo sappiamo che c'è questa differenza non lo so quello che vi chiedo io da fare ascoltare bene il vostro corpo sentire a che punto riuscite ad arrivare in quel momento ok le mani devono essere ben appoggiate e devono sentire il giusto peso nel nostro corpo come quando noi facciamo il cane a testa in giù e non è che il peso va sulle mani o il peso va solo va sui piedi è distribuito lo stesso in questa sana lo stesso in tutte le asana il peso si distribuisce armonicamente in tutto il nostro corpo che abbia io la mano avanti una indietro che abbia tutti i due davanti tutto il nostro corpo ha bisogno di allenarsi allinearsi in maniera corretta quando entriamo nelle posizioni bene se avete o hai dei dubbi su questa sana sull'apertura del petto su come lavorarla e sulle propedeutiche da fare scrivetemi e ne parliamo per questo siamo qui e se c'è qualche asana in particolare che volete analizzare o guardare chiedetemi la pure cercherò cercherò di risolvere tutti i vostri dubbi e di aiutarci ad approfondire sempre di più in queste pratiche queste pratiche ok bene noi ci vediamo sul tappetino virtuali con gli appuntamenti di questa settimana e per favore compilate la il sondaggio che è uscito ieri sera questo ci mi permetterà di creare un un orario ottimale per per gli incontri del 25 del 31 pilates per lasciare il nostro addome pronto per il pranzo di natale è una pratica guidata di in yoga e meditazione per ringraziare questo 2020 e lasciarlo andare dalla nostra vita come si fa ogni anno ok bene grazie mille ci vediamo sul prossimo video namaste